Siamo qui con Cristian Piero Antozzi, presidente della Galia Club, associazione che organizza il festival della Galia in occasione del primo maggio e l'edizione 2018 ha visto ben quattro giorni di festa, musica, enogastronomia e tanta animazione. Un bilancio appunto di questi quattro giorni? Guardi, possiamo dire che questi due giorni sono stati positivi a 360 gradi sia dal punto di vista dell'impatto dello spettacolo perché abbiamo avuto quattro sere tutte quante belle, dalla prima con i Visi e Virtù che facevano la tributa a Vasco, la seconda con il festival dei gruppi della zona e ieri sera con i Sud Sound System. E questa sera con il gruppo Radice del Cemento e Tim McKillan che sta cantando in questo momento. Per quanto riguarda la gastronomia è andata tutto, la gente è stata affluenza e ha mangiato e bevuto a volontà, quindi devo dire che è tutto positivo, il tempo ci ha dato, ci ha avuto incontro, quindi tutto ok.